Olexandra, congratulazioni perché sei il champion, un finale incredibile Champions Cup Super Master Series, sei felice? Sì, sono molto felice Ho già detto che sono molto felice perché senza il supporto, senza il mio team, senza i miei amici e senza tutti che mi supportano, non posso fare i risultati di quello che ho fatto E' tutto Sì, i primi lapsi sono difficili da prendere la prima posizione Sì, perché tutti mi hanno iniziato a perdere, io ho iniziato a qualcuno e dopo che tutto è clean andiamo con Dania Grazie Grazie